Ben trovati da OTG della mobilità, al via la campagna di Roma Capitale per la buona movida che sarà diffusa a ragazzi e ragazze tra i 12 e 18 anni frequentatori di bar e locali notturni, per contrastare la mala movida fino a ottobre sarà in vigore l'ordinanza di Roma Capitale che impone l'obbligo di chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto dalle 22 alle 5, divieto in vigore delle giornate del venerdì, del sabato, della domenica di mercoledì 14 e giovedì 15 agosto, i dettagli sul sito comune.roma.it